Ragazzi piccolissima cosa, date un'opportunità a questo gioco perché la vera potenza di questa modalità la vedrete dalle prossime puntate Soprattutto da quando inizierà il torneo giovanile con tutte le nazionali Fidatevi perché è lì che inizia veramente la storia Salve a tutti ragazzi e bentornati a me in show, siamo tornati con Olly e Benji E non mi aspettavo un supporto così grande alla prima puntata Siamo tornati con Michele Spettacolo e questo è il nostro personaggio che sta giocando fianco a fianco con Mark Landers L'obiettivo è quello di vincere questo torneo per poi essere selezionati dal Giappone e andare a giocare questo torneo negli Stati Uniti contro i nazionali più forti Ma guardate chi sono i prossimi avversari Se avete seguito la live dell'altra sera saprete che ho un conto in sospeso con questi due Mi raccomando supportate la grande questo video Però ragazzi forse voglio portarvelo più come una carriera di FIFA piuttosto che come un World True Un po' diverso Visto che è su quello stile facciamo una sfida Se questo video supererà 40.000 mi piace che sono tanti Ragazzi ci sono i capelli del fenomeno 40.000 mi piace e il prossimo episodio lo gioco così Promesso, promesso Ma adesso iniziamo, dobbiamo giocare contro i gemelli d'Eric Però ho riscontato che questo gioco c'è un problema E che parlano veramente troppo Condenserò le ghiacchiere Ah avevamo pareggiato? Il biscottone Gli hanno fatto il biscottone E lui se ne vanta pure A Mark Lenders ma che te vanti Ma che sei svedese Ecco fatto l'ha detto ragazzi Io mi gratterei Ecco fatto l'ha detto Sì ma andate dal dentista ragazzi C'è stato un problema evidente qua Un attimo mi ripetete chi siete? Proprio così ragazzi Spettacolo sbruffone Si inizia ragazzi Bando alle ciance Dobbiamo vincere Su forza Koike Benissimo Oh no Comunque ragazzi In live ci siamo divertiti tantissimo L'altra sera Quindi immagino che sia un gioco In live molto bello da vedere Oh Famai attenzione Questo gioco Fermamolo Fermamolo No Ragazzi Occhio ai gemelli d'Eric Perché questi qui Ci hanno La catapulta infernale Crosseranno un bel po' Bravo mister Dai capigli Ragazzi è spompato già È già spompato Bumpia sto Ma? Ma? Ma ho tirato uno straccio fracico Ragazzi ho tirato uno straccio bagnato Bella Bella Spaperata Non ho fatto il super tiro perché Credo che se l'avessi fatto Me l'avrebbe parato No per la questione dell'energia È finita No Palo No Ma cosa segna senza super tiri? Ho segnato cazzo Ma ho segnato Oddio è andato Però non c'ho la forza Per far il super tiro No ragazzi Mi ero presentato lì davanti Ma non c'avevo la forza Oh È il nostro momento Sfascialo Mike Sì Mike Sfascialo Mark La rovesciata della tigre Bello qua ragazzi L'ho spanicciato Vabbè lui ci ha messo la testa Un po' gioco pericoloso Però Ah vabbè ragazzi È entrato dentro la porta Grande Vai ragazzi Super passaggio Bravo Dai Mike Te ne sei succiato uno Te ne sei succiati due Eh basta È finita ragazzi Ho finito il fiato per far Piccola differenza Tra questa modalità E la modalità Tsubasa Che abbiamo giocato in live Quell'altra modalità È un po' più spettacolare Dal punto di vista Di ciò che succede in partita Cioè potreste dare vita A degli eventi Che ripercorrono Quello che è il cartone Cioè per esempio Contro i gemelli Derrick C'è un certo punto E loro cominciano a fare Le catapulte Le cose Segnano di testa Fidatevi Vedremo i frutti Di questa modalità Tra un paio di puntate Fidatevi Ah ragazzi Insuperabile Tranquillo La para Tranquillo La para Che giocatore Che giocatore Glielo lascio fare No No Che cazzo fanno Bravo Bravo No No Non è bastato Grande 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 Ce l'abbiamo fatta Ragazzi sono pazzi Questi due E lui è morto Prestate gli soccorso Bravo Vai 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 È il momento nostro Ragazzi Eh mo Ma hai rotto Li coglioni Tira gliela Sborrata proprio Tira gliela Sta bomba Di Mark Lenders Su Dentro la porta Va alla frente Vai Su Su Tripletta Tripletta Stiamo tutti ragazzi Aspettando Il primo gol Di Mr. Spettacolo Con questa nuova maglia Vai 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 Che non c'è provi Provaci Provaci Da casa mia Dai dai che entra Dai che entra Eh si che entra Gli ho tirato Uno straccio Fracico Bravi ragazzi Bravi ragazzi Ragazzi abbiamo ottenuto Un sacco di tecniche Ma lo possiamo migliorare Ve l'ho detto Piano piano Pensate quando ruberemo Le abilità A Santana Ma non hanno fatto niente Zitto Lecchino E poi non l'hanno mai fatta La tecnica aerea E' fighissima ragazzi Io l'ho subita Ieri sera in live Azz Si è fatto male pure l'Enders Ma qua si fanno male i ragazzi Come niente Si è rotta la caviglia L'ho sgamato Questo nome si è in cula Spettacolo Eh si Son bello Son bello Ma non così tanto Dai Ti sei fatto male Yuga? Ok ok Tranquillo capitano Oddio che faccio La spia Dai faccio la spia Ragazzi E' più importante la squadra Che il singolo Eccolo Ho detto Yuga Che cos'è? Capirai questo qui ragazzi E' uno zerbino D'animello Vabbè ma anche o mandi te Stupido Capirai ma Ma mi dirà una pallonata Che fa? Mi mena Oh parole forti qui ragazzi Non sono io che so migliorato Ma sei tu che sei peggiorato Beh c'ha mezza gamba Mu' gliela paro a scommettere Dai che gliela hai presa Eh infatti ho visto prima ragazzi Sao Ma stanno tutti rotti Tutti i fracichi Ah io ho fatto la spia Scusate Ah ragazzi Guardate questo L'evento Aumento di grado E' praticamente quando Saliamo di livello Con i vari personaggi Vedete C'è sempre questo tipo Di animazione Imparerò il tiro Della tigre Dai Oh che cacchio vuoi Che me vuoi fregare il tiro Eh scusi Certo che lo sono Non c'è nulla Che io possa fare Oh finalmente ragazzi Abbiamo finito Allora adesso abbiamo Un sacco di tiri Abbiamo il colpo proiettile Però vedete Ognuno c'ha una potenza C Velocità B Questa qui cc Quindi non facciamo Un bel passo in avanti Questa potenza B Velocità c Potremmo cambiarlo Questo è quello Che abbiamo noi E il precision shot Cc Proverai il tiro potente Dai Tiri al volo Non ne ho Super tiri Non ne ho Dribbling Step over Step over Attacco orgoglioso Aumenta leggermente Le statistiche d'attacco Sì Oh ma il nostro avversario Ragazzi E' lui Soda Questo è un cane ragazzi La chiave tattica Sarà questo Questo è un rude difensore Punta a fare Male ai giocatori Più forti Immagino che si concentrerà Su Mark Landers Che è già infortunato E starà a noi ragazzi Fare qualche golletto E parole forti L'ammazza campioni Proprio così ragazzi Col dito puntato Ah sì Non so cosa sia la pietà Vabbè ragazzi Stai a giocare il pallone Sì ma non è che poi Me ne ha tutti Non possiamo giocare Basta Io non sono un campione Vabbè ma non possiamo Giocare Basta Accanto che non fa manco un gol Si inizia ragazzi Si inizia Vai Sawada Vai Danny Ma mia ragazzi Li brucio sempre Quando gli dico vai Loro già hanno perso palla Vai Mike Superane uno Se ci riesci Bravo Però ho già perso tutto ragazzi Corè Bravo Mike Bravo Mike Tiro possente Proviamolo Ma che bomba gli ho tirato Eh vabbè ragazzi Che bomba gli ho tirato Che bomba gli ho tirato Raga quel Soda sta ovunque Guarda guarda Sta ovunque Questo capitano maledetto Soda Kun Bello Così a fargli sentire la presenza Bravo Soda Ragazzi E mo ragazzi So cazzi Amari Sono andati tutti avanti Tiro 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 Poi ragazzi Gli spaccolo tutto Eh vabbè Oddio Ho avuto paura Che l'infortunio Si facesse sentire Invece no Ma voi ragazzi Immaginate sto gioco Online Che può essere Quando giochiamo Con altre persone Secondo me Laga è veramente divertente Ma quando gli segna Questo Quando gli segni Contro il pass Guardalo Mike Che spettacolo Con le nuove tecniche Ah è mia È mia Me l'hanno toccata Ok No Chi A chi A chi A chi Oh Oh Selezio difensore Oh Bello Mike Se la riprende così Ragazzi Poi vabbè Sbaglia tutto Ma se la riprende di nuovo Questo è il momento nostro Raga Questo è il momento nostro Potremmo faglielo Tiro potente Dammi il primo gol Per favore Gliel'ho fatto Ma vaffan cucolo Ma no Ma che gli dommo fa Ragazzi a questi Per fargli un gol Ci riproverà Ci riproverà C'è Oh 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 Vai Mike E vabbè Sto portiere Ripara tutto Ma che è Ha deciso Che non devo segnare Vai ancora lui Del suo tiro consecutivo Oh e mo gli devo fa' gol Ragazzi Eh si Esultanza Esultanza Il primo gol Del signor Michele Spettacolo Qui ragazzi Grandissimo passaggio Di Mark Landers Che mi vede Tiro possente Sì guarda qua Il tiro infuocato Gli ho fatto GG GG Il primo gol Questi attivano la zona Perché hanno capito che Stanno in difficoltà Se riusciamo a fare più 4 Otterremo un bonus in più Quindi Adesso focussati Focussati Comunque questo gioco è bellissimo ragazzi Online deve essere una cosa pazzesca Ecco lo so Ti è andato in attacco Bella Ma se fai il difensore Te hai giocato in difesa No No ragazzi Non posso sbagliarla Non posso sbagliarla Non posso sbagliarla Ok No sta No sta No sta Via 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 Uscimo Uscimo Sore Tieni Tieni Soda Leggime la targa Va piazza bomba Mister No Non glielo faccio Col Però Però aspettate ragazzi Eeeh Ma perché Gli devi dire una bomba di nuovo Ragazzi Ci sto a provare Ci sto a provare Oggi ci sto a provare No ma mi parla sempre 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 Yuka Eh non può entrare Non può entrare Invece si 3 a 0 Proprio lui Mark Lenders Ragazzi qua Mister spettacolo La prende Adesso sto cominciando a imparare Rovesciata De Mancino Portiere tutto felice Vabbè va la pia va Oddio Yuka-kun 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 No non ce la fa Non ce la fa Ce la fa 4 a 0 Godo Io non perdo mai Addirittura Eh qua l'ho spagnacciato Non me l'aspettavo il 4 a 0 Però Siamo in attesa di avversari Più prepotenti 1 2 Dai Fai la doppietta Mike Però forse tiro da troppo lontano ragazzi Non so Allora L'ha addirittura stoppata Sto portiere pupazzo 4 a 0 Però ragazzi Più Più 4 di successo Vediamo che succede A parte questi c'è un Un solo giocatore buono Che era un difensore Ci abbiamo giocato E questo faceva tutte entratacce Era fortissimo Valutazione incontro S Ammazza quanto sono salito Oh si Ragazzi Mark Landers Tanta roba Il tiro della tigre Ma così Subito Se noi ci mettiamo il tiro della tigre Facciamo un tiro della tigre E siamo spompati per tutta la partita Calcio aereo Tiro al volo Potenza orgogliosa Sfavorito Sfavorito Daglie Goto Bevi questo Mi è stato il Gatorade dell'Atalanta Ragazzi E uno anche per me Ah allora si spiega tanta roba M'ho capito tutto Eh Gl cliche Glugglugluglu Sono pieno di energie Certo La bibita cassa Cosa che non si beve nello sport Ma come? Io l'ho detto a tutti O forse ragazzi non l'ho fatto Mi sto sbagliando Perché ti sforzi così tanto? Gli amici sono qui per questo Eh sì, sì, sinceramente sì Ragazzi sto per imparare il tiro della tigre Vediamo Ecco il risultato del mio allenamento Tiro della tigre Nani Guarda come ci è rimasto male Un tiro della tigre, nani Il mio però è del Bengala Certo ci sono riuscito a Mark Landers Che t'aspettavi? Allora ragazzi potenziamo il nostro giocatore Non tanto con i punti abilità Quanto più nelle tecniche Perché adesso abbiamo il tiro possente Ma abbiamo pure il tiro della tigre Vedete? Potenza, velocità, AA Però costo dello spirito il 50% Vabbè come gli altri in realtà E allora ragazzi ci si mette il tiro della tigre Tiri al volo o un tiro al volo Che fa un po' schifo Super tiri non ne ho Dobbiamo rubare qualche tecnica A quelli che fanno i dribbling Però ragazzi vedete abbiamo Le missioni affinità Cioè praticamente facendo queste cose Possiamo ottenere Vedete? Se io adesso prendo una o più in passaggio Per quattro volte Mi da il passaggio della tigre Ragazzi lo faremo nella prossima puntata Fatemi sapere che ne pensate Secondo me è una figata assurda Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao